Ragazzi, sembrerebbe che involontariamente abbiamo trollato una persona nello scorso video Tommaso Doria mi ha scritto Ah 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 ah, ma quando hai messo la lava fuori dalla porta Ed Ermac giustamente ha usato l'acqua per spegnersi Ha creato un blocco di usidiana davanti alla porta E la tizia è rimasta dentro Andiamo a vedere se è vero perché non me ne sono accorto, vediamo Oh, che ci fanno i cani? Sono entrati questi lupi Ma sono amichetti? Sì, sono amici di quella ragazzina Ah ok, quindi non li dobbiamo uccidere No, no, no Ma che facciamo adesso? Non lo so, c'è il temporale fuori Aspettiamo che ora arriva Dov'è la nonna, la nonna Petrenco? Eh, nonna Petrenco Eh, è morta Come no? Ti colpisco la testa voodoo così ti fai male, ecco Ma quella non è la mia testa Ti colpisco Adesso lo trollo, ora lo trollo Cosa? Dove fai? Piazza la lava È intrappolato per sempre ora E invece no No, 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 che ti ammazzi È vero! Oh mio Dio Non ci voglio credere Guardate, guardate No, no, che ti ammazzi Guardate, lei è dentro Lì c'è un blocco di stiana E adesso è bloccata per sempre Involontariamente abbiamo trollato ragazzi Il nostro compagno O la nostra compagna Perché è una ragazza Non ci voglio credere È rimasta là dentro tutta la partita Ciao a tutti ragazzi Sono Kendall e benvenuti In questo nuovissimo video Degli Ender Games Come avete visto nella clip iniziale Nell'intro Io ed Ermac abbiamo fatto il troll del secolo E non ce ne eravamo nemmeno accorti Perché era un troll involontario Chi avrebbe mai pensato Che avremmo trollato quella poverina E l'avremmo incastrata per sempre Dentro quella casa Per colpa della nostra ossidiana troll Mentre giocavamo tra di noi È veramente qualcosa di impensabile E soprattutto è impensabile Che quella chest fosse completamente vuota Che cavolo è successo? Perché era vuota quella chest? Che mi serviva a me Comunque Vi invito a lasciare un bel mi piace Già da subito ragazzi Vediamo di riuscire ad arrivare a 1500 Questo che cosa si prenderà? Oh, si è preso quasi tutto Porca miseria Vediamo di arrivare a 1500 E oggi Come potete vedere In basso a destra Sto utilizzando il kit Assassino E starete pensando ovviamente Kendal cosa fa il kit assassino? Spiegaci maestro Non vi preoccupate Alunni Prendete appunti E vi spiego Il kit assassino ragazzi Mi permette di fare il doppio Del danno Quando un avversario Non mi sta guardando E quindi quando lo attacco Alle spalle Se io riesco ragazzi A fare un attacco sorpresa a qualcuno Gli faccio il doppio del danno E starete pensando ovviamente Vabbè Kendal hai soltanto una spada In legno Che cosa vuoi che sia il doppio del danno? Anziché fare 4 Fai 8 È leggermente più forte Sì Ok Con la spada in legno Immaginatevole con una bella spada In diamante ragazzi Quanto male può fare Allora intanto craftiamoci subito La spada in ferro Perché ho 4 diamanti Mi posso fare anche la corazza Quindi è molto meglio Oh mio dio Che paura che mi ha fatto questo Ok ragazzi Questa sarà la nostra prima preda Prima di tutto Io ho delle belle pozioni Di instant damage Che così quasi Gli tiro addosso adesso E dovrebbe essere morto Tra un altro hit Oh mio dio Ce l'abbiamo fatta Ok perfetto Fatemi prendere la bustola un attimo Perché mi devo guardare le spalle Ah Ci abbiamo qualcuno A 40 blocchi Là sotto Dubito che lui riesca a venire qui Ne dubito Oh mio dio la foresta sta andando completamente in fiamme 20 blocchi No 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 Sta iniziando a venire Ok no 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 Va bene per niente Dobbiamo attraversare ragazzi Le fiamme dell'inferno E dobbiamo cercare di scappare da questa persona Perché dobbiamo tornare ovviamente full vita 30 blocchi c'è un altro No c'è troppa gente qua Porca miseria Scappiamo 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 E quello là è full Non ci voglio credere Non ci credo che mi sono buttato per sbaglio Dentro le fiamme della foresta Ok spegniamoci Eccone un altro Mi avrà visto Sì mi ha visto per forza Porca miseria Eh ok Ora è stato teletrasportato da un altro ancora Che è messo abbastanza bene Dobbiamo mangiare ragazzi Dobbiamo assolutamente mangiare Questo lo mettiamo qui Non ho un arco e frecce purtroppo Se avessi avuto arco e frecce Oh mio dio È già così vicino Com'è possibile Oh mio dio Questo vola Ok Attacchiamolo da dietro ragazzi Sapete bene che attaccandolo da dietro Lo faccio più male Oh mio dio Oh mio dio ragazzi Il kit ha funzionato alla grande E a 60 blocchi C'abbiamo qualcuno Mi serve il suo corpetto Mi serve la sua spada E basta E devo scappare adesso Ora devo scappare veramente per la mia vita Perché avete visto che c'è un altro avversario là sotto Uff Ragazzi È o non è stato epico quella kill Oh mio dio Eh vabbè Però no 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 Per favore Teletrasportatemi Per favore Per favore Voglio essere teletrasportato Ma no No non tu Tu non devi essere teletrasportato Io devo essere teletrasportato Ok Dimmi che non ha un ender pearl Non ce l'ha Per fortuna Ok vai via Per favore Lasciami stare Mi lasci rigenerare la vita adesso E mi lasci anche fare i cavoli miei È vero No Perché ovviamente mi sta venendo contro adesso È vero che mi sta venendo Oh mio dio Oh e basta però Eh va bene Eh Ora capisco tutto Però Essere teletrasportato in continuazione Contro tanti altri avversari Non mi piace Ora c'è un cuore Sono morto Sono veramente morto Ragazzi Se questo non ha una mira Veramente Che è una ciofeca con l'arco Io sono morto E invece no Mi ha lasciato sta E vabbè Un altro E vabbè Un altro Un altro E fa volare le mucche E no però Basta eh Io ho bisogno anche di vivere Mi lasciate vivere Per favore Mi lasciate Un secondino Giusto un secondino Per respirare E così io mi equipaggio E sì Per favore 15 blocchi È proprio dietro di me ragazzi Questo mi vuole morto Questo mi vuole morto Ma è nudo Che cosa speri di fare Contro di me che io sono full Dai vieni qua Ah eh Mo scappi Mo scappi Che se gli tiro una spalataria dietro Come se spara in diamante Ragazzi Gli spacco la schiena Gli spacco veramente Lo apro in due Lo apro Con il danno che faccio io Grazie Grazie al kit assassino Uh altri Perfetto Ok Dobbiamo soltanto craftarci adesso Dei pantaloni ragazzi È l'unica cosa che ci servono No Tu mi stai prendendo in giro Cioè mentre io mi stavo craftando i pantaloni Sono stato teletrasportato qua Tu mi stai veramente Tu ora stai giocando con me Tu stai giocando con me Cioè non sei più serio Non sei una persona seria Come HD Tu Tu mi prendi in giro Quindi io ho perso la possibilità Di farmi i pantaloni Però No Non è ancora detto l'ultima parola Me li posso ancora fare in Oro Che fanno schifo eh Non fraintendete Fanno schifo Ma vabbè Vabbè Che volete Sempre meglio di niente Almeno ora sono un pochettino Equipaggiato rispetto a prima Me li stavo facendo in iron E sono stato teletrasportato Esattamente Nel momento in cui me li stavo facendo Cioè ma la fortuna mia qual è Qual è la mia fortuna Non esiste È inesistente la mia fortuna praticamente Allora Come avete visto ragazzi Io questa partita penso che ve la carico lo stesso Perché mio dio Ho fatto delle uccisioni che non sono pazzesche Di più Cioè di quell'uccisione là Dove mi sono salvato veramente con Un culo di vita È stata epica E ora guardate Questo lo attacchiamo da dietro Oh mio dio Gli avrò fatto un male cane Gli avrò fatto un male cane Sta capendo questo Chi è che comanda Ha detto oh mio dio C'è Kendall Kendall comanda Kendall comanda Eh ok Pantalone in diamante Perfetto Sì 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 Continua a spararmi Continua a spararmi Che io ora mi sono fatto i pantaloni in diamante Grazie a te E mi sono anche tirato una pozione E adesso se tu vuoi venire Piccoli Guardatelo piccolino Che piccolino ragazzi Guardatelo Non ha capito niente Non ha capito che se viene qua Io lo spacco in due Gli apro veramente le gengive Allora siamo rimasti ancora in sei Io ho fatto la bellezza di due kill epiche E mi sta chiedendo team Ok team 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 Ah team Perfetto team Stiamo facendo team con Con questo Alex Ok quindi adesso ragazzi Non appena posso Lo attacco da dietro Vedete siamo in team Con questo piccolino E ora invece Guardate guardate Appena si gira Appena si gira Lo attacco da dietro Ma che team Kendall non fa mai team Kendall non fa mai team con le sue prede Kendall le ammazza E basta Non esiste il team per me Io sono spietato Mi devo fare un Oh cacchio Ok dicevo Mi devo fare un elmo Quindi devo trovare una crafting Qua da qualche parte O se no me la devo craftare io La crafting Sì mi sa proprio che me la devo andare a craftare la crafting 70 blocchi Ci abbiamo Mister Truban Eh ok Crafting Perfetto Mi posso fare l'elmetto in ferro E sapete bene tutti quanti ragazzi che Elmetto in ferro Per Kendall Equivale a Vittoria Io ho praticamente vinto questa partita E in realtà Ho sprecato una pozione Completamente Senza motivo Perché l'ho fatto? Perché pensavo di avere la bussola Nello slot numero 2 E invece avevo una pozione Che mi serviva Come il pane Va bene Poco importa Allora Bussola mettiamola di nuovo Nello slot numero 2 Il cibo lo mettiamo qui Questo qui Questo qui Perfetto Poi la lava la mettiamo Anzi mi servirebbe l'acqua A dire la verità Sì 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 Molto meglio avere un bel secchietto d'acqua Quindi vabbè la lava la mettiamo qui E l'acqua invece la mettiamo qua Riusciamo a prenderla? Perfetto Allora Andiamo contro i miei nemici Ragazzi siamo rimasti in tre Sono un finalista Ricordatevi che un attacco da dietro mio Fa molto più male di un attacco da dietro Di qualsiasi altra persona Oh Ce l'ho già i piedini in diamante Ok Mi faccio allora l'elmetto Decisamente sì Decisamente sì Elmetto in diamante Meglio di niente Perfetto Siamo veramente equipaggiati ragazzi Benissimo Siamo straforti Abbiamo anche un enderperl adesso Direi di metterla Sì mettiamola qua Perfetto Adesso ragazzi È arrivato il momento Di andare a combattere i nostri nemici Spaccare le gengive A tutti quanti Sperando che non siano tipo full diamond O con kit ancora migliori del mio Anche se Teoricamente In una battaglia Normale Non esiste kit migliore del mio Perché io faccio più danno di tutti Appena attacco qualcuno da dietro Però se hanno quei kit che tipo li fanno volare O che gli rigenerano la vita così Ogni 4 secondi Ecco in quel caso Sì hanno dei kit migliori di me Allora qua c'è gente Se riesco ad attaccarli da dietro Mentre si massacrano Ho veramente vinto tutto Dove sono? Sono qua Aspettate Oh eccone uno E l'altro? Wow Ok questo è torre ragazzi Bene Sappiamo bene tutti quanti Quanto è potente il kit di torre Perché ti può attaccare a distanza Con i fulmini E li può spammare com'è Oh Che cosa è successo? Stava craftando una spada E l'è sparita Ok perfetto 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 Prendiamoci questo instant health Gli è sparita la spada ragazzi Mentre la stava craftando Credo O l'ha buttata per sbaglio Ottimo Adesso oh mio dio C'ho una paura fottuta ragazzi Perché qua c'è la foresta Io non voglio combattere torre Nella foresta Perché ora questo Mi spacca in due ragazzi Vi faccio vedere Guardate qua Allora intanto Utilizziamo questa No sto laggando Non vale Non vale Non è giusto No 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 Cioè io ho iniziato a laggare Proprio quando il pvp era Uno contro uno Proprio Proprio nel momento più cruciale Dove avrei potuto vincere Perché lui era girato di spalle Quindi due spadate in diamante E moriva Cosa faccio Inizio A laggare Bene Ragazzi Spero vi sia piaciuto questo video In ogni caso Sono sicuro che vi è piaciuto Per l'intro Fantastico